E' un'idea fisso a Presidente, i premi play-off, i premi play-off. I premi play-off. Peppe, Benazzo, guarda, guarda, siamo stati 5 giornate senza centrocampisti. Fa beggio, non guarda le fassiste, con la tazza, si ma Benazzo ce la pone sacchetti. Peppe, Benazzo, buono a giocare la città di insieme, tutti i tuoi quali. Peppe, l'hai ripetuto a Anzio con io. Si è fermato, Benazzo, eh? Quarto allenamento consecutivo aveva fatto. Una serie straordinaria. Oggi ha voluto fermarsi, non ha neanche voluto mangiare. Hai giocato? In realtà le qualità, mi ha dato un segno. Ehi, vai a te! Che puoi sentire? Quattro sederi. Quattro sederi. Allora, sentire i quattro centrali che normali come stavoggiiamo. A difesa. Dove? I tredici centrocampi che t'hanno essi. Però t'hanno essi chissi. Benazzo. Centrale. Bacongo. A sinistra. E t'hanno essi chissi. Bunga bunga dove? Bacongo a destra. Per la serie destra. A me t'hanno mettere laterale a sinistra. Che però non vengono a fare la fase difensiva. nooo. Allora, bagno di tredici. E le vado dal loro. Mottrbee, attaccati e le vado dal loro. Vabbè. Ti ho fatto. Aspettato. Fate finisce. Noo, io li ingannevo tra l'izzabietà e il terzino loro. Cioè se li ha tanto. Quindi faccio trafino al centro caldo. Insomma, comunque L'importante è che lo hai detto... Che vanno fai di aula, innanzi. Vabbè, il centrale è la trala che ti fai lo stesso lavoro mio, però l'importante è che tu lo capisci Quando Maria la palla a me, io tengo la possibilità sia alla punta Che tu la darà? La darà è puntà, capito? E' puntà, sicuramente puntà Che so' punta, Maria la palla, vestendo me e tagli la porta perché annanzi, non tengo nessuno che ci possa la palla, perché ti piace? Capito? Sì, è l'aldigno, è l'aldigno Che sai allora? E' una buona tenanza a fare le appoggio di questo E chi corre? Tu ne si fai uno tu, insomma Io personalmente le posso garantire sostanza e qualità E' un po' che si fa la buona sostanza E' un po' che è difficile Allora, il piano di noi si vuole proprio... Si viste tu quando gioca 4-3-3? Vabbè, vabbè Lo so Venga, teni pure un buon centrocampista E non... Sì, il centrocampista... ...te coppono, no? E se che c'è? Sarebbe a posta Ah, non ciò ma si è visto tre Siamo io Ah! Ehi! Chi è questo ? Ehi, sì, tu Adesso che... Mi aspegliami Ti hai seguito che tono tante quantità Certo No, perfetto Questo cazzo E' buon... Guardate che è stupido E' buon... Cera tenevo pure una buona tercina in cursore come il K-2 E tu ti metti. E tu ti metti tira opone Mette un po' il bosco E' buon... E' buon... ma ciò ti metti al centro e così ti torniamo a dire le bombe a indruppare e schizzo le va in porta oppure gioca alla Ibra, palla al piede, solo palla al piede però quando arriva in porta è decisivo, una assistita di Rubinio è sempre decisiva mio mortiere si deveva piegato quando c'erano gli elementi a disposizione per fare il suo, si può pure provare, come no? grande, grande osservazione così si giocava a Piperno, ero forti di 18 anni ero forti quando eri in porta a Mundo, ero buono terzino simile a così, si gioca pure con il centrocampo a 4 e tu fai il quarto di centrocampo ti fai una cica cica di più di copertura hai capito vabbè ma questo... questo va a puntare ti fai... la busta mi guadagno le punizioni dipende dai video... che tu pari ora le batte le vette le batte a Prusca ma questo dipende dai video che sentite YouTube il buono è che il buono è il buono il buono è il buono è il buono l'unico tu buono ci hai detto quando c'entra e il buono ci ha detto la seconda io gli mettavo un Barta ehhhhhhhhhhhhh uno ci ha provato lì c'era un BALT se lo batte un BALT è il Tascano insomma non me ne torno a casa Fabio è brutto! Fabio è brutto! Fabio è destra! Destra dalla panchina! Fabio è brutto, hanno 4-3-3, andiamo a farci giocare, ora tu devi stare a giustare i cazzi di te! Terzino e destro! Allora! Per farci giocare a Fabio, per forza, metto un'altra difesa! Mettiamo un difesa, mettiamo un danno annanzi, io a destra! E noi prendiamo la punta annanzi! E chi è da destra? Chi è? Terzo attaccante a destra? Chi ci mettiamo? No, noi siamo venuti con i 4-4-2! No! Hanno 4-3-3! Fabio è brutto! Ci metto io a sinistra! Fabio è brutto! A destra che? La fai attaccante! Eh! Stai fai niente contento! Ha detto bene! Ti piace! Ti piace pure a te quello che penso alla ciorca! Non sembra a fare lavoro e fare la ciorca che non pubblici! Ecco! Si! Quella te la fa! Si vuole pulire! Dai colorare! Ho sistemato tutta la squadra! Ho meglio io e faccio voglia di me! Ehi! Figuro mangi tu! Che non lo sapevo! È arrivato Cio Cesco? No vediamo! Non ci potete! Pensaci! 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 Dipende dalla rifinitura della mattina! Giacomo stiamo ora... Se spogli la classifica... Non siamo la peggior difesa ma ci sono quasi! Che telefono di mille euro! Non ci sono il palco! Oh! Oh! Ciao! Ti sei arrivato! Ti sei arrivato alla galleria che c'è! Ciao ragazzi! Ah quindi è colpa te allora! Ciao ragazzi! Ci vediamo domenica anche ora amici! All'11 e quarto di campo! Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! Sicuro? Sì! 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 C'entra lì no? Dichiarazioni Erbio? Ma quest'ora lo devi cominciare a chiamare! Sì! Hai ricercato! Ma con una bella musichetta che ci stavano! Sì! Sì! Domenica! Domenica! Ok! A Domenica! Con questa macchina! Luna e un quarto qua! No! Luna e un quarto qua! Luna e un quarto qua! E' vero! Guarda se dir caso alle vitticela alla lecchia eh! Ah! Vabbè! Vecchio! Ma parte pure casale! Vovente! Sognala! E qual le costa? Sognala! Giovannino così me l'ha fatta la capocce! Andò! La doppa del fondo! Il caminano! La doppa del nonno! Il caminano! Il caminano! Il caminano! Ma ci ha fatto bubo! Ma c'è che l'anno ci ha fatto bubo? c'hai fatto cosa? chi è? il zucchero quanto cazzo io? con tutti i gelatori con tutti i gelatori un po' ignorante si ma la canzone è del zucchero vabbè 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 hai ragione questa canzone che sta a me? hai sentito parecchie volte? di coriandoli i coriandoli con le finali eh i coriandoli 8-5 vabbè dopo i 45 anni fa gli parlare ma da quant'è? che stanno 0 titoli a voi a 2-0 titoli a 2-4 su vabbè 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 se твоi già mi hai detto a fredda stai 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 ci vediamo domenica ragazzi ciao 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 buona serata ciao 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 buon proseguimento ragazzi ciao Valtelino ciao Valtelino e vabbè mi hai dato puli allora mica con una e un quarto qua con una e un quarto ecco ok chiediamo ciao ciao K ciao 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 ciao